Sarà un arrivo quasi da star, un red carpet immaginario che si snoderà lungo le vie del centro storico. Un evento spettacolare, il nuovo vescovo di Terra Moatri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, farà il suo ingresso trionfale nel capoluogo a Prutino nel pomeriggio di sabato 20 gennaio. Una città blindata per un prelato dal curriculum di tutto rispetto. Nato a Trani, Monsignor Leuzzi è un medico, da sempre vissuto a Roma, delegato per la pastorale universitaria, per l'assistenza religiosa negli ospedali di Roma e cappellano della Camera dei Deputati. La prefettura annuncia la presenza di numerose autorità civili, religiose e militari. Si parla della venuta di Gianni Letta in persona e di altri parlamentari che assisteranno all'evento religioso in cattedrale dopo un saluto ufficiale che avverrà in Piazza Martiri. Per l'occasione è stata montata un'imponente tenso struttura riservata a loro. Salta però il mercato del sabato mattina e questa decisione non è piaciuta ai commercianti. Questa cosa è stata decisa qualche mese fa. Purtroppo, certamente, si poteva prevedere l'arrivo del vescovo di domenica, in me è tale che una giornata festiva forse ci sarebbe stato anche un movimento diverso. Purtroppo si perde una giornata, ma soprattutto la cosa più grave è che non si recupera questa giornata, che poi in effetti è stata chiesta di fare il mercato la domenica e purtroppo non è stata accettata. Il programma della cerimonia di insediamento del nuovo vescovo di Teramo prevede un incontro con i giovani nella mattinata di sabato al santuario di San Gabriele della Dolorata. L'arrivo alle 15 in città, al santuario di Madonna delle Grazie, dove sarà accolto dai fedeli per proseguire il lungo corso Cerulli fino alla chiesa di Sant'Antonio. Dopo il saluto con le autorità in piazza Martiri, Monsignor Leuzzi farà il suo ingresso in cattedrale. Affinché proprio tutti possano seguire l'evento in diretta, sono stati posizionati vari maxischermi a servizio di cittadini e fedeli. Qualcuno potrebbe dire che i tempi sono cambiati. Certo, sono passati oltre 2000 anni dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme seduto su un asinello. Sono tempi diversi, sì, ma è sempre una festa.